Che fatalità! Ci deve essere un piacere, un minso... Sì, è vero! Ma dove stai andando? Scusa! Non so se stai avendo iniziato! No, dai, veramente, sono andati via subito al più bello! Non ti manda perché ora pure non vi faccio mai più tempo! Che serio stavano? Ma dove ho messo il putero? Scusa un attimo! Scusa un attimo! Io spero di prenderlo! No, non ho ragione! Sono decine di messi! Sono decine di messi! Signori, un applauso! Grazie di voi! Signori, io non lo faccio già fare per me! Posso segnare un secondo? Non lo mettiamo bellissimo! No, non lo mettiamo qui! No, non lo mettiamo qui! È questo che descrizione dietersi del tuo video! Guarda la mia rivista! Scusa che dovremmo farlo spettare la mia vita! E lo scuole non! Non lo mettiamo! E lo scuole non lo mettiamo! E lo scuole non esiste! E lo scuole non esiste! C'è un romanzo! E per me, noi siamo e abbiamo sinto! Grazie.